In collaborazione con Glam Vision e i dentisti riuniti. Tragico incidente in Valdechiese. Paolo Corradi è morto a 76 anni. Il lutto di una comunità, un uomo di montagna che amava il territorio. La Cannabis Light diventerà illegale, a rischio migliaia di posti di lavoro. Cavattoni, una follia per scopi elettorali. Crisanti, intervento figlio dell'ignoranza. Anche col diretti contro il governo. Lago di Caldonazzo, l'acqua è calda ed è boom di alghe. Sconsigliata la balneazione a San Cristoforo, l'azienda sanitaria. Precauzione per evitare sintomi cutanei e gastrointestinali. Percorrono il sentiero in alta quota con le moto, ignorando il divieto. Zanella, presidente del CAI Alto Adige. Comportamento incivile, necessario multare i trasgressori. L'altra montagna, il progetto che ha raccolto 460.000 occhiali da sole per proteggere la vista degli abitanti delle alte quote. Uno sguardo a Shares of Love.